Ciao Spinkers, io sono Elena, make-up artist e beauty content creator di Spink Up e oggi vi parlo di due prodotti per la base viso di Bare Minerals. Se non lo sapete, Bare Minerals è un brand con lo scopo di prendersi cura della pelle, infatti gli ingredienti sono naturali e sono perfetti anche per le pelli più sensibili. Oggi vi faccio vedere il Siero Skin Longevity Long Life Herb Serum e il Fondotinta Original Liquid Mineral Foundation. Sono due prodotti leggerissimi che contengono ingredienti che proteggono, nutrono e idratano la pelle. Applico il siero, contiene l'estratto di erba di lunga vita, che è una pianta che ha altissime proprietà performanti e dona alla pelle un aspetto sano e radioso. Passiamo al fondotinta che va shakerato, questo contiene anche la protezione solare 20. È abbastanza liquido e io lo vado a stendere con un pennello. Questo è l'effetto applicato su metaviso, come vedete il finish è radioso, proprio di una pelle fresca e sana e mi ha coperto anche abbastanza bene le discromie e naturalmente è stratificabile. Io sono letteralmente innamorata di questo fondotinta. Se volete saperne di più di questi due prodotti, vi lascio il link per leggere il mio nuovo articolo su Spin Cup. Grazie. Grazie.